Buongiorno a tutti, intanto mi permetto di portare un saluto e un ringraziamento all'amministrazione ISPRA per l'organizzazione di questo evento. Sostanzialmente ormai è un po' di tempo che si parla, per fortuna anche a livello mediatico di consumo di suolo, di consumo di suolo connesso alla pianificazione e in parte anche di strumenti per il contenimento del consumo di suolo. Gli strumenti che sono stati adottati fino adesso sono un'esperienza ormai consolidata a livello di molte amministrazioni, molto diffusa ormai sul territorio nazionale e non solo, tendenzialmente sul territorio europeo. Le conoscenze sono molte, le esperienze sono molte, si parte da circa 20 anni fa a studiare il fenomeno del consumo di suolo e provare ad associarlo a quelle che sono le logiche e le politiche della pianificazione territoriale. Abbiamo provato a sintetizzare tre grosse categorie di strumenti, che sono gli strumenti per l'analisi quantitativa, gli strumenti per l'analisi quantitativa, che sono poi quelli che si utilizzano a livello decisionale, e gli strumenti che sono quelli a cui ci approcciamo tendenzialmente adesso, che sono quelli di analisi qualitativa. Dicevo, esperienze ormai diffuse sul territorio. Sicuramente, e porto l'esperienza del territorio piemontese, quella della conoscenza del fenomeno del consumo del territorio, consumo di suolo. Sono 20 anni che si studia questo tipo di fenomeno, si prova a incrociarlo con dati statistici di popolazione, con tipologia del suolo consumato. Sono tendenzialmente dei dati quantitativi, che ci danno la possibilità di capire quanto e dove si è consumato fino ad oggi. Per fare un esempio, città metropolitana, sono 315 comuni, quasi 7.000 km2, di cui almeno poco più della metà di territorio montano, quindi poco attivo, poco dinamico dal punto di vista dell'espansione urbana. Fino a 5-6 anni fa si consumavano oltre 1.000 ettari all'anno di suolo. Si sono toccati dei tassi medi-annui di incremento dell'1,5%, 7-8 anni fa, che adesso si sono ridotti a poco più dell'1%. Ma soprattutto il dato preoccupante è quello che noi definiamo il suolo prenotato, cioè quello che oggi è previsto dai piani regolatori vigenti e non è ancora stato attuato, che tendenzialmente aumenterebbe di poco più del 10% il consumo di suolo nei prossimi 5 anni. Strumenti quali quantitativi? Anche questa è un'esperienza sicuramente del territorio piemontese, ma anche in questo caso abbastanza diffusa sul territorio nazionale, quella delle politiche per il contenimento del consumo di suolo. Gli strumenti di pianificazione territoriale, sia il piano territoriale regionale che la revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale, hanno attuato, hanno messo a punto una normativa specifica finalizzata a contenere il consumo di suolo. Città metropolitana oggi lo fa definendo, anche dal punto di vista geografico, quindi cartografando quelle che definiamo le aree libere, che sono quelle su cui assolutamente è possibile intervenire con attività di espansione urbana, mentre invece il piano territoriale agisce dal punto di vista normativo sotto il punto di vista numerico, quindi attraverso una limitazione a non più del 3% del consumabile nei prossimi 5 anni rispetto a quanto è stato consumato fino ad oggi. Quindi anche dal punto di vista normativo, fino ad oggi esistono degli elementi per provare a contenere questo tipo di fenomeno. Sulla base di queste conoscenze, quello che abbiamo cercato di mettere in piedi nel momento in cui abbiamo scritto questo progetto San 4CP del programma Life, era provare ad affrontare il discorso del consumo di suolo da un punto di vista che fino ad oggi non era ancora stato preso in considerazione, cioè uscire da quella che potremmo definire, forse De Rosa l'ha fatto prima, la mera logica commerciale dell'urbanistica, quindi la compravendita di terreni per il profitto a breve termine, chiamiamolo così, e provare a capire quale fosse, e provare a quantificare soprattutto, quale fosse invece la tassa che ha citato Michele un attimo fa, cioè quei costi indotti dalle trasformazioni del territorio che ricadono poi sulla popolazione fondamentalmente e che comunque risultano essere dei costi assolutamente irreversibili. Facendolo non a livello teorico, e questo forse è il punto più importante, ma provando a costruire proprio degli strumenti innovativi, perché ad oggi non esistono, da mettere in mano alle amministrazioni, da mettere in mano alle associazioni, da mettere in mano, volendo anche ai cittadini, strumenti che siano in grado di quantificare tutte quelle perdite, è stato detto molto bene prima, tutte quelle perdite che fino ad oggi sono state considerate poco e in maniera molto marginale nelle valutazioni di trasformazioni urbane, sia nella pianificazione locale, sia nella pianificazione di area vasta. Dal punto di vista strumentale, diciamo che non abbiamo fatto altro che mettere insieme il software con cui sono state elaborate tutte le mappature dei servizi ecosistemici all'interno del progetto, con quei software geografici che sono quelli che poi vengono spesso e volentieri utilizzati dalle amministrazioni locali per la valutazione e la redazione del piano regolatore e soprattutto per gli enti che si occupano di pianificazione di area vasta per il monitoraggio delle pianificazioni locali. Ovviamente tutto questo, a maggior ragione trattandosi di un progetto europeo, è stato elaborato in ottica open source, quindi con programmi non solo disponibili per tutti, non solo gratuiti, ma tranquillamente personalizzabili e modificabili. Abbiamo parlato di simulatore, perché simulatore? Proprio perché lo strumento consente di simulare gli scenari a seguito dell'attuazione delle varianti previste dai piani regolatori. Quindi non solo valutare lo stato di fatto, quindi la situazione attuale a livello di servizi ecosistemici, sia in termini biofisici che in termini economici, ma anche a seconda della trasformazione indotta dall'attuazione della variante di PRG, capire quali possono essere gli effetti sullo scenario futuro. Di conseguenza, l'obiettivo fondamentale per costruire questo strumento era quello di mettere a disposizione i dati elaborati nelle azioni precedenti del progetto, quindi le mappature dei servizi ecosistemici, integrare queste informazioni con le informazioni derivanti dai piani regolatori e essere in grado di costruire gli scenari e quindi simulare, come si diceva prima, gli effetti della trasformazione. Questo strumento darà la possibilità di essere ovviamente applicato su area vasta, quindi dare la possibilità alle province, le città metropolitane, le regioni, a chi monitora appunto su area vasta il territorio, di quello che è lo stato attuale e di come potrebbe lo stato attuale cambiare a seguito dell'attuazione degli scenari previsti dai piani regolatori. Ma soprattutto sarà importante l'applicazione a livello locale, il software insieme a un pacchetto dati di base che potrà essere personalizzato, migliorato, aggiornato da parte dei singoli comuni, verrà distribuito attraverso il sito di progetto a tutte le amministrazioni che decideranno di adottarlo e il comune potrà andare a valutare gli scenari di trasformazione dal punto di vista ecosistemico, sia attuali che a seguito delle trasformazioni che prevede di attuare sul proprio territorio. Abbiamo pensato di generare questo tipo di strumento in due forme, una forma che è quella di cui vedete una snapshot in questa slide, che è una forma più divulgativa. Questa sarà a breve, molto a breve, disponibile direttamente sul sito di progetto e consentirà non solo di interrogare la mappatura dei singoli sette servizi ecosistemici che abbiamo preso in considerazione, di valutarne il valore biofisico, ma anche di simulare attraverso i sei pulsanti più a destra, di simulare sei scenari di trasformazione, chiamiamoli basici, quindi di provare a vedere quali possono essere le trasformazioni indotte sul valore biofisico dei servizi ecosistemici e su quello economico, sulla base di appunto sei scenari di trasformazione che sono trasformazione in urbano denso, semi denso, rado, parchi urbani, aree agricole o aree naturali. Quelli che vedete sulla parte di destra sono tutti i dati che vengono calcolati da questo simulatore distribuito via web, quindi partendo dal basso il valore biofisico attuale è quello previsto, una rappresentazione grafica attraverso l'istogramma del valore attuale rispetto al valore di scenario, quelle due lancette rappresentano invece un valore complessivo dei sette servizi, quindi da un'idea di quella che può essere la perdita complessiva e nel riquadro grigio scuro un computo di quella che è la perdita in termini economici per metro quadro. Quindi in questo caso con la simulazione che abbiamo fatto si avrebbe una perdita indicativa di circa 40 centesimi a metro quadro per il tipo di intervento selezionato. Questo è più un giocattolo diciamo, è più uno strumento per avvicinare tutti e sensibilizzare al tema. Lo strumento vero e proprio, dicevo, è uno strumento, si chiamano GIS, sono degli strumenti geografici fatti apposta per l'analisi e la pianificazione del territorio, integrato con il software che è stato utilizzato per la mappatura dei servizi ecosistemici, ovviamente attraverso questo strumento che è uno strumento che ogni amministrazione, ogni professionista, ogni persona interessata potrà scaricarsi direttamente sulla propria postazione di lavoro direttamente dal sito e uno strumento che consentirà la valutazione in maniera molto più puntuale, molto più precisa, molto più analitica di quello dello strumento web che abbiamo illustrato in precedenza e quindi che consentirà davvero di valutare in maniera più professionale, diciamo, quelli che sono gli effetti indotti sui servizi ecosistemici anche dal punto di vista economico rispetto alle varianti che si prevede di attuare. Un ultimo accenno su una questione che è fondamentale ed è forse la più complicata da affrontare che è quella dei dati in termini di disponibilità di dati, in termini di aggiornamento di dati e in termini di accuratezza di dati. È ovvio che questi strumenti possono funzionare con qualsiasi tipo di dato gli si dia in pasto, però ovviamente maggiore è la precisione del dato che si gestisce attraverso questo tipo di simulatore e maggiore sarà la precisione del risultato. Altro problema che, torno al punto di partenza, che riguarda il consumo di suolo, che riguarda i servizi ecosistemici, che riguarda molti degli oggetti di cui stiamo parlando è quello dell'uniformità di linguaggio. Spesso e volentieri, già solo parlando di consumo di suolo, non intendiamo tutti la stessa cosa. Quindi nel momento in cui si approccia a queste tematiche, una delle prime avvertenze, una delle prime precauzioni che bisogna mettere in atto, è proprio quella di capire che si stia parlando tutti la stessa lingua. Grazie. Grazie, dottor Ballocca. Certamente parlare un unico linguaggio su un argomento come questo è veramente importante. Quindi ci auguriamo tutti che non solo queste due città come Roma e Torino, che oggi hanno dato luogo a questa manifestazione, ma anche che tutte le altre città italiane si accodino, se posso utilizzare questo termine, a questo tipo di iniziativa per avere tutti insieme questi nuovi strumenti per la pianificazione.